Non sarò una cercatrice di tesori come te, ma dubito che troverai il dorado lì dentro. Come ti sei cacciato in questo guaio? Cercando di salvarti, in effetti. Oh, come sei dolce. Tradizionali mattoni d'arenaria e stucco. Malta calcarea. Ah, e perché ne sei tanto in proposito? Il mio programma, Episodio 4, Architetti del Nuovo Mondo. Già, basterà uno strattone e verranno via. Cosa? No, aspetta! Sei sicura? Fatti da parte, Vodo! C'è Patan, apriamo questa dannata porta! Oh, cavolo. Ehi, Drake. È di ragia. Dovevo immaginarlo. Affascinante documento. Pare che questo Sir Francis facesse il mio stesso lavoro. Non darti delle aria, Eddie. Sempre pronto ad attaccare, eh? Sai che ti dico? Portami all'oro e forse ti lascerò vivere. Tutto qui? Questo è l'accordo. Aiutarti a morire dopo, oppure morire subito. Scelta difficile. Ma sai una cosa? Scelgo morire subito. Dai, Kamu! Ascolta bene, verme. Mi è stato promesso un tesoro su questo maledetto sasso. E ora, i miei uomini muoiono. Non possono nemmeno andare a fare il pipì senza una scorta armata. E io non ho niente da dargli in cambio. Ti sto facendo un'offerta equa. Aiutami a trovare il tesoro. E chi sopravviverà si prenderà l'oro. E la ragazza, ovviamente. La ragazza? Oh, e di lei se n'è andata da un pezzo. Ormai sarà fuori dall'isola. In cerca di aiuto. Dai, Kuchin! È stato bravo a bleffare. La troverò. Fidati. È una ragazza che problemi può dare. Allora, porta, muoviti! Grazie! Ehi! Una dannazione! Ok. Ottimo lavoro. Grazie. Ehi! Ehi! Bucca vinto! Tieniti! Ehi, mica speretta! Inseguiamoli! Via, via! Raggiuntili! Vai, dove stai andando? No! Arrivano! Sì, rimasta! Sì, rimasta la mano! Raggiungili! Non lasciarli scappare! Sì! Sì! Ehi! Ehi, raggiungili! Sì! 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 Un animalo ballato! Un animalo ballato! Un animalo ballato! A finita! Un animalo ballato! Oh, no, 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 no! Oh, merda! Vai! Ho detto il burrone! Tutto bene lì dietro? Pensa a guidare! A presto! A giugirci! Sì! Non mi hai giudirò! Mettili fuori! Oh, no! Oh, il burrone! Lo vedo! Nate? Dai, Gus! A tavoletta! Ce l'abbiamo fatta! Non ci credo, ha funzionato! Chi è quel tipo? Solo un vecchio socio! Attenzione! Tieniti! Ok, afferro la mia mano. Ok. Bene. Tutto a posto? Sì, sto bene. Oh, ma tu stai sanguinando? Sì, capita in queste zone. Andiamocene di qui. Forza! Tonnazione! Cosa? Forza! Andate da qualche parte. Andate da qualche parte? Ehi, Eddie. Pensavate veramente di riuscire a scappare da moi? No, no. Stavo solo facendo fare un tour alla signora. Taci! Scommetto che anche tu lavori per loro. Cosa? Pensavate di potermi fregare e di tenere tutto per voi, eh? Donnazioni, questo è pazzo! Eddie, stai calmo, amico. Beh, la vostra fortuna è finita. E anche la vostra ricerca. Ora, datemi la mappa. Resisti Va bene, d'accordo, è presto fatto Ehi, non muoverti Tranquillo, Eddie Sto solo prendendo la mappa, come hai chiesto Ho detto ferma Lo sono Bene, passa qui Beh, mi hai appena detto di non muovermi Sembra che dovrai venire a prendertela Dai, come... Via, via